I due si sfideranno in freestyle il vincitore 15 giorni all'orion con Augusto Papo e Valerio che sono i miei assistenti stavolati vi assicuro è stata una bellezza e con Rocco Andra, 15 giorni mamma che fortuna mamma che fortuna, infatti non ho pensato vorrei perdere siamo pronti? votate voi 1, 2, 3 yes, ah, che fai? il nome è mio se lo sai che gli è una white ma dove cazzo vai? io che ti alzo è gay Clementino prendi le mazzate in freestyle ma guarda il freestyle caramba che è capa Clementino e capa si scappa da sempre sopraumano tu non lo stai si la capa la ritallazione tu e te la provarai neanche l'improvvisazione in compisazione 24 alla volta il culo e il dito come fosse Alessandro volta dove cazzo vai? il sonno di una libra fratellino tu fai il rap assieme a parte in vibra andiamo a parte in vibra a Robert Scott mi fumo su gilotto lui rappa con Giovanotti che mi stai dicendo? o suona di male a vuoto fratelli mettiti sei come la mia moto come la mia moto e non lo stai? e Clementino e Gianna White guarda tipo Bansai per quello che ti do risalazione orio alla Napoli in torion in relazione ma scatto come l'ha fatto io sono un leone ma dove vai? e quello che ti faccio sta da dentro uno schiappo al finire nello schermo sullo schermo in anteprima ma l'altra schifta che Clementino spacchia in vetrina io ti metto a capo tavolo ultima cena ti faccio capa a capa nello steppa della Iena ah ah o se me con la tena ma i tuoi con che Clementino metti in cancrena quello che ti faccio atto binacoli un saluto al pubblico di Roma e di Napoli in relazione questi gridano perché tu sei un po' sterrone quello che ti faccio ancora si tu dà a te frissanti da mattellate Taiwan Taiwan o su nel spaz hai preso gli schiappi in faccia da Rocco Hunt durante la canzone poche parole qua c'è l'ombra ma quale male il sole ma le occorre stai con me stai troppo fumando e chimica brother questa è l'ultima la Iena che è fossico tu già sai la gente va fuori se canto fossico alla mia destra se volete che vinca Clementino fate casino adesso alla mia sinistra se volete che vinca Iena White fate casino adesso vince 15 giorni nel camerino dell'Alca con Valerio Mello Russo Pape Rocco Hunt DJ Taiwan sei un grande fra sono contento